ciao buongiorno non so l'inquadratura non riesco a vedere cosa sto inquadrando comunque sono arrivato parcheggiato la macchinina ed ora mi avvicino all'entrata del festival the land made che apre alle 10 e vi porto con me vi faccio vedere qualche bancarella c'è ancora chiuso dunque credo che andrò a vedere il caffè facciamo una deviazione e andiamo a trovare un'amica che è con la bancherella su ponte a casa del vecchio sono arrivata che era chiuso e adesso c'è già gente in entrata che aspetta d'altronde oggi per fortuna il tempo bello e logicamente gli ingressi sono contingentati perché per il covid c'è la guardia giurata l'entrata che misura la febbre e ovviamente può entrare un massimo di dovrebbero essere 40 persone su 40 con 40 espositori all'interno del padiglione e e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.